Questa è un cane terrorizzato dallo strangolo, vedete, odia il suo addestratore, ed è terrorizzato, vedete come soffre, ecco, la pulizia del viso costa, un'altra delle nostre vittime. Fai vedere quanto soffre con questo strangolo, fai vedere, fai vedere quanto soffre con questo strangolo. Come si leva la... Ok, ya!